Bentornati su MyFootballJersey. Siamo solo a marzo e vediamo l'ultima maglia del Liverpool che non abbiamo ancora visto per la prossima stagione. Questa l'avrete riconosciuta, è la prima, in edizione FAN. Questa l'avrete riconosciuta. La maglia mi piace, devo dire, un po' fuori dagli schemi della prima maglia del Liverpool. Non è detto che sia questa quella definitiva, però veramente molto bella. Mi piace molto la righina gialla, il colletto fatto in questo modo. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere se vi piace più questa o quella dell'anno scorso. Qualità ottima? Tempi di spedizione molto buoni. Due, tre, quattro settimane indicativamente. Ora vi lascio la parte finale. Prima però regalateci un grande like. Per oggi è tutto. Alla prossima.